Allora amici di Jutelandia, questa sera voglio regalarvi un panorama mozzafiato da uno degli sky bar più belli e più panoramici di tutta Bangkok sono al Vertigo & Moon Sky Bar, sono nel quartiere di Silom. In verità avevo già dedicato un altro video a questi famosi celebri sky bar di Bangkok, il primo l'avevo girato all'Eboa Sky Bar, eravamo al 62esimo piano dell'Eboa State Hotel, era il lo sky bar dove era stato peraltro girato il secondo episodio di Una Notte da Leoni, quindi se volete andatevi a vedere il video, ma questa sera invece voglio regalarvi questo panorama prima del tramonto che si corre dal Vertigo & Moon Bar, faccio un giro sulla terrazza panoramica così potete farvi un'idea di quello che sto osservando. Il Vertigo & Moon Moon Sky Bar si trova al 59esimo piano di questo albergo, le ultime due rampe di scale le dovete fare a piedi, quindi siamo al 61esimo piano e il terrazzo che vedete qui si divide in due parti, c'è una parte dove si cena e una parte invece che è questa alle mie spalle, adesso ve la faccio vedere, dove si fa il semplice aperitivo, aperitivo che ha il costo di un poco più di un aperitivo fatto in Italia. Guardate che bello il panorama ancora, qui si vede tutta Bangkok a 360 gradi, laggiù davanti a me, non so se lo intravedete, c'è il Ciao Praia, i grattacieli di Silom, potete anche farvi un'idea di quanto è stessa sia questa straordinaria città. Bene, per questo video dal Vertigo & Moon Sky Bar vi saluto, continuate a seguire il mio canale YouTube Juterandia, spero di avervi fatto un bel regalo, ci vediamo al prossimo video, ciao!